Salve gente, per la nostra sezione giochi di carte oggi vediamo un grandissimo classico dei giochi italiani già diffusi nel XVII secolo, ovvero scopa. È importante perché poi da questo gioco se ne sono diffusi tanti altri delle varianti che poi vedremo prossimamente, ma noi partiamo dalla versione base, che si gioca con un mazzo di 40 carte e si può giocare singolarmente in 2 o 3, oppure si può giocare anche a squadre in 4 o in 6, quindi a coppie o a terzetti. Nel caso giocaste a coppie o a terzetti vi dovete distribuire ovviamente alternati nelle squadre sul tavolo da gioco, dovete avere a fianco soltanto i vostri avversari. Dunque, per prima cosa dovrete scegliere con l'almaziere iniziale e decidere come giocare, dopodiché mischerete e inizierete a distribuire. Le carte hanno semplicemente il loro valore che vedete qua scritto. I 2 valgono 2, 3 valgono 3, 4 valgono 4, gli assi valgono 1, le figure valgono 8, 9 e 10, a seconda sono jack, donna e re, perché si gioca col mazzo da 40 carte. Questo è molto importante perché ci servirà poi per prendere. Andiamo a vedere come distribuire le carte e iniziare la nostra partita, ipotizzando una partita a due giocatori. In realtà puoi giocare in gruppi, è indifferente perché giocare in gruppi semplicemente vuol dire mettere insieme con i propri compagni le proprie prese. La meccanica del gioco è assolutamente invariata. L'almaziere mischia le carte, le fa tagliare al giocatore alla sua destra, se vuole tagliarle, dopodiché le distribuisce in senso orario e ne distribuisce 3 per ogni giocatore. Iniziamo di giocare in due, è la cosa proprio più semplice, ma poi vedrete che è tutto uguale. Dopo aver distribuito le prime 3 carte ad ogni giocatore, ne pone 4 a vista al centro del tavolo e tiene il mazzo pronto a disposizione per i prossimi giri. A partire dal giocatore a sinistra del mazziere e poi proseguendo in senso orario, ogni giocatore giocherà una delle carte che è in mano fino ad esaurire le 3 carte. Quando tutti quanti avranno giocato le 3 carte, il mazziere riprenderà il mazzo e distribuirà con lo stesso metodo sempre 3 ad ognuno fino a quando il mazzo non si esaurisce. In quel caso, terminate di giocare tutte le carte di mano, le carte sono finite e la mano termina. Ogni giocatore può prendere in diversi modi. Come? Allora, innanzitutto, scegli una carta da giocare e poi, se esiste sul tavolo una carta dello stesso valore corrispondente, 2 per 2, prenderà quella e solo quella. Se invece non è presente una carta del medesimo valore, potrà scegliere di prendere facendo delle combinazioni tra quelle in tavola. Ad esempio, se il 2 può prendere solo e solamente il 2, la donna può prendere 7 più 2, 9. Le prende e le pone a fianco a sé come il mazzo della sua presa. L'ordine di priorità comunque resta quello della propria carta, se c'è. Faccio un esempio, io in questo momento voglio prendere con la donna. Vedete, potrei anche fare 7, 2, 9 o 5, 4, 9, ma c'è già una donna in tavola, quindi sono obbligato a prendere quella. Se questa non fosse sul tavolo e ho più di una combinazione a disposizione, posso scegliere quella che voglio, quindi prendere una o l'altra combinazione, a mia discrezione. Se durante una propria giocata un giocatore riesce a, con una carta, togliere tutte le carte dal tavolo, quindi vuotare completamente il tavolo, fa quella che viene chiamata una scopa. Quindi, oltre a prendere le carte, segna una scopa, come è fatta, e questa varrà un punto a fine partita. Questo si può fare in tutti i giri, tranne nell'ultimo. Il mazzere nel suo ultimo giro non potrà fare scopa anche se vuota il tavolo. Cioè, può prendere tutte le carte, ma non gli verrà segnato il punto. Quando tutti i giocatori hanno terminato le loro carte, la mano finisce. Eventuali carte rimaste sul tavolo vengono prese dall'ultimo giocatore ad aver effettuato una presa. A questo punto ogni giocatore prende il proprio mazzo e conta i punti, dico la mano. Innanzitutto si guarda quante scoppe hanno fatto e ognuna vale un punto. Poi ci sono altri quattro modi di fare un punto di mazzo, come si suol dire. Il primo è quello delle carte. Contate quante carte avete, se riuscite ad averne più del vostro avversario o della squadra avversaria, quindi almeno 21 carte, fate un punto. Altrimenti ci sono il sette bello. Il sette dinarii, cos'è dato il sette bello, vale un punto. Se ce l'avete bene, se non ce l'avete, sarà bene per qualche di un altro. Poi ci sono gli ori. Contate quanti denari o ori, come li volete chiamare, avete. Se ne avete più dei vostri avversari, quindi almeno sei, se giocate in due o a coppie, siete i vincitori e fate un punto. I denari, ovviamente, potrebbe anche capitare che ne avete cinque e gli altri ne hanno cinque e che siano pari. Il punto non viene assegnato. L'ultimo meccanismo è quello della primiera. La primiera consiste nel mettere, per ognuno dei quattro semi, la carta più utile possibile alla primiera, dove la più alta è il sette. Poi si scende ad avere i sei, gli assi, i cinque, i quattro, i tre, e poi le figure. Ad esempio qui devo trovare un cuore. Vediamo un po'. Non ho il sette di cuore, non ho il sette di cuore. Mettiamo l'asso. Secondo il regolamento ufficiale, per stabilire chi ha la primiera, però qui sono messo bene con tre sette e un asso, ma a volte non è così scontato chi ha vinto, bisogna proprio contare, il regolamento ufficiale prevederebbe di fare un conteggio dove il sette vale ventun punti, il sei ne vale diciotto, l'asso ne vale sedici, il cinque e quindici, il quattro e quattordici, il tre e tredici, il due e il dodici, e le figure dieci punti l'una. In realtà poi è spesso molto più utilizzato il conteggio alternativo, dove il sette vale sette, il sei vale sei, il cinque vale cinque, il quattro vale quattro, il tre vale tre, il due vale due, l'asso vale cinque punti e mezzo, e le figure invece valgono mezzo punto. Diciamo, è una variante molto diffusa, però sostanzialmente non cambia il complesso della cosa. Forse quest'ultima variante è un po' più facile da ricordarsi e da contare come numero di punti, il conteggio è un po' più semplice. Anche qui, un giocatore che ha fatto più punti di primiera vince un punto, e anche in questo caso potrebbe capitare che siete pari. Quindi, complessivamente, ad ogni giro ci sono a disposizione fino a quattro punti per il mazzo, più le eventuali scoppe. Al termine della mano, il giocatore che era il primo di mano diventa il nuovo mazziere, prende le carte, le distribuisce, e così procedete. Al termine di mano, sommate i punti che avete fatto, voi o la vostra squadra, con i punti precedenti, fino a vedere se arrivate al limite che va preposto prima per la vittoria. Tipicamente 11 punti se giocate in due, 21 se giocate a coppie, 16 se giocate in tre, però se avete più tempo potete stabilire un limite più alto. Il primo giocatore o la prima squadra che raggiunge il limite di punti prefissato per la vittoria è la vincitrice o il vincitore. Se entrambe le parti superano contemporaneamente il limite, può capitare. Il giocatore o la squadra che ha fatto più dell'altra è il vincitore. Se siete proprio in parità totale, giocate a un'altra mano di spareggio. Il gioco presenta molte varianti. Un paio ve la dico al volo adesso, le altre le vedremo nel dettaglio. Vi parlo un attimino al volo del cosiddetto asso pigliatutto, o come è che si chiama asso spazzino anche. Giocare con l'asso pigliatutto vuol dire che il gioco è esattamente come questo, la differenza è che se un giocatore gioca un asso, prende tutte le carte in tavola, però la presa non vale come scopa. C'è anche un'ulteriore variante che si chiama in realtà scopa d'assi, in cui, che questo è forse l'asso spazzino che dicevo prima, in cui la cosa è uguale, quindi un giocatore con un asso prende tutto quello che c'è in campo e se toglie tutto fa anche scopa. Mi sembra evidente, no? Quindi insomma sono due varianti simili. Prossimamente ne vedremo altre, quindi restate sintonizzati e al prossimo video.